L'ingegnere Giovanni Vacanti L'ingegnere Giovanni Vacanti Verso una destinazione bellissima E guardare fuori dal finestrino Fuori dal finestrino vediamo il sole che sorge sulle nuvole E' bellissimo Quello che non vediamo probabilmente E' ciò che rende possibile questo viaggio Cosa rende possibile il viaggio? Una rete invisibile di server, di cloud Di sistemi di telecomunicazioni tra la torre di controllo e l'aeroplano Il sistema di booking che ha fatto in modo che possiate Possiamo prendere il biglietto e salire su quell'aeroplano Ora immaginiamo questa rete di software eccetera Come delle piccole gocce che formano un immenso oceano virtuale E pensiamo per un attimo se potessimo riuscire ad ottimizzare ogni singola goccia Immaginiamo allora ogni singola riga di codice Io sono uno sviluppatore, sono un ingegnere elettronico prestato all'informatica E ho scritto molte centinaia forse di migliaia di righe di codice nella mia vita Pensiamo a ogni singola riga di codice che scriviamo o che scriverete Come una piccola goccia che riusciamo a ottimizzare E allora pensiamo quanto potremmo alleggerire il peso di quell'aereo Un aereo più leggero significa un aereo che consuma di meno Allora cosa possiamo fare di fronte a Nella sessione mattutina abbiamo visto che ci sono dei grandi I big da Google, Azure, i grandi dell'informatica Cosa possiamo fare noi, l'altra volta è stato detto nel termine noi normali No? Persone che, no? Hai detto tu Cioè sviluppatori normali che agiscono in aziende normali, piccole Cosa possiamo fare? No? Allora possiamo fare e possiamo fare tanto Possiamo fare tanto proprio se pensiamo a queste piccole gocce Allora intanto diamo un attimo un sguardo a quello che è il paniere energetico Cioè l'energia che viene prodotta nel mondo Parliamo di milioni di tonnellate equivalenti Parliamo di numeri enormi Quanta di questa energia è prodotta con energie non rinnovabili? La maggior parte Petrolio il 32% Carbone il 27% Gas naturale il 23% Se eleviamo il nucleare che ha pure qualche piccolo problema Rimane veramente ben poco Che possiamo fare noi, appunto persone normali Abbiamo questo dato Quindi dove possiamo agire? Possiamo agire nell'efficientare Nel fare in modo che ogni piccola goccia Ricordate quell'oceano Ogni piccola goccia che possiamo controllare È un pezzettino che leviamo alla CO2 equivalente Cosiddetta prodotta Allora attualmente la maggior parte delle aziende Si concentra su quello che si chiama scope 1 e scope 2 Cioè alle emissioni dirette Che vengono prodotte direttamente E non su quello che si chiama scope 3 Ovvero quello che è la catena del valore Faccio un esempio Lo scope 1 diretto sono il sito produttivo, i veicoli aziendali Lo scope 2 è l'energia elettrica che utilizziamo per il riscaldamento e il raffreddamento Ma c'è tutta una parte che deriva Sono lo scope 3, quelle indirette Che cosa è? La lavorazione dei prodotti venduti L'utilizzo dei prodotti Il fatto di andare a lavorare con la nostra automobile Tutto questo è scope 3 Allora pensiamo che in Microsoft il 75% della propria energia è su questo scope 3 Quindi possiamo agire pesantemente come singoli nel diminuire queste emissioni Allora vediamo un po' la domanda di elettricità che c'è nei settori nostri Nel settore dell'ITC Dell'Information and Communication Technology Siamo dal 5 al 9% della domanda globale di elettricità Ma le previsioni mi dicono che questo numero potrebbe salire fino al 21% Quindi abbiamo una fetta importante sulla quale possiamo lavorare E se vediamo il grafico a destra Il forecast della electricity demand Vediamo che la quota che comincia a diventare importante Sarà quella dei data centers Ma anche la parte delle networks Quindi tutto quello che va su internet Che va sulla rete Questa è una cosa sulla quale dobbiamo riflettere pesantemente Negli anni 70-80 il software cos'era? Un software che si installava sulle macchine Next, 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 avanti, installato, fine Adesso i software sono sempre di più delle web application Delle applicazioni web Quindi delle applicazioni che risiedono da qualche parte Che amiamo chiamare cloud E che veramente è un cloud Poi vedremo cosa è Allora, il problema è quella che c'è una scarsa consapevolezza pubblica Cioè questa idea che si può lavorare sul piccolo e ottenere poco È un'idea che non si fa avanti come dovrebbe E allora è necessario sensibilizzare tutte le parti coinvolte Quei due signori lì, Jeremy Wagner e Alex Russell Sono due pionieri Che hanno cominciato a dire Che anche noi sviluppatori possiamo dare il nostro contributo Il nostro piccolo contributo Ma attenzione Sempre in tema di aeroplani Un manager di un'azienda avionica Una volta risparmiò qualcosa come Penso qualche milione di dollari l'anno Levando una singola oliva dal menù che c'era a bordo Ai tempi a bordo si davano a mangiare Adesso sta tirando la Coca Cola e assai Cioè anche una piccola oliva Anche un qualcosa di piccolo può fare molto Allora la sfida è una sfida aziendale ma anche gestionale Qual è il problema a mio avviso? Il problema è che c'è un disaccoppiamento dei budget Le aziende lavorano con dei budget I soldi che hai di cui hai a disposizione E c'è un conflitto di interesse Tra i test di efficienza energetica Perché fanno un test di efficienza energetica Vedere se il software che ho prodotto io È un software che è energeticamente efficiente Costa farlo Dall'altra quando vado sulle operations I costi operativi Questi aumentano se il lavoro è poco efficiente E allora bisogna avere un approccio olistico Un approccio globale al problema Quindi l'obiettivo deve essere la sostenibilità E le priorità tradizionali Che sono quelle della velocità di consegna Riduzione dei costi Devono invece essere superate Con un'ottimizzazione su tutto il ciclo di vita Sul software cosiddetto end to end Dall'inizio alla fine E quindi occorre un coinvolgimento aziendale Di tutte le figure Non soltanto lo sviluppatore Non soltanto il manager Ma tutte le figure preposte Allora ogni linea di codice che scriviamo Questo dobbiamo interiorizzarlo Ha un'impronta di carbonio Un'impronta ecologica Quindi la nostra responsabilità È quella di pensare Ogni linea di codice che scriviamo Come una linea di codice Che può generare Un'impronta energetica negativa Se vogliamo c'è un'impronta nel CO2 Allora per fortuna Tra virgolette Che esiste il cloud Perché per fortuna che esiste il cloud Da qua possiamo aprire Veramente un dibattito Perché i cloud E le infrastrutture moderne Consentono di efficientare Energeticamente Cioè i server on premise Quindi i server che si mettevano a casa nostra Che si mettevano nelle nostre aziende E che ancora ci sono Sono delle macchine E dei server Che hanno una bassa efficienza Quindi lavorano al 15% Le loro possibilità Ma sprecano al 100% Mentre i cloud hanno Questa possibilità positiva Cioè di avere una percentuale Di efficienza maggiore Quindi questo è qualcosa Sulla quale è interessante Fare riferimento Attenzione che non parliamo Non soltanto di server Ma parliamo anche E soprattutto Di applicazioni mobile Ci sono non milioni Ma miliardi Di dispositivi Di cellulari Di tablet E ogni cellulare Tablet Ogni applicazione Che facciamo per il cellulare E il tablet È ottimizzata? Pensiamo all'impatto energetico O no? Ma non c'è soltanto questo C'è quello che si chiama L'internet of things L'IoT L'internet of everything Cioè dispositivi Che sono collegati Alla rete E che consumano Come consumano? Non solo consumano per sé Cioè ma quanto può consumare Un piccolo oggetto? Attenzione che quel piccolo oggetto Si collega alla rete E collegarsi alla rete Ha un impatto energetico Ricordiamoci quella slide Che abbiamo visto Con quella parte Azzura Che diventava sempre più grande La parte wireless Wi-Fi Diventa sempre più importante Da un punto di vista Del consumo energetico Quindi con miliardi Di dispositivi in gioco Ogni singolo pezzo Di codice Che scriviamo Ha o può avere Un impatto anche Critico Sulle emissioni complessive Di anidride carbonica Io vorrei che questo fosse Un punto in cui Dobbiamo essere consapevoli Ma io cosa posso fare Nel mio piccolo? Il problema è che siamo tanti Cioè qua magari Io non so Quanti sviluppatori ci saranno Magari la metà Delle persone presenti Un terzo Ma già se Questo terzo Riuscisse a Pensare sempre di più Al fatto che ha questa responsabilità E che può migliorare Nel suo piccolo Abbiamo un impatto Molto importante Facciamo un piccolo esempio Supponiamo Di essere stati assunti In un'azienda Di Informatica E stiamo facendo Un'app Di home banking L'home banking È quell'applicazione Che ci consente Di Vedere il nostro conto Spero ricevere Tanti bonifici Fare qualche bonifico Eccetera Allora Supponiamo Di Fare un'app Di home banking Che è utilizzata Da 5 milioni Di clienti Non è tanto C'è un'app Di una banca Media italiana Ha questo numero Di clienti Benissimo Pensiamo allora Di sostituire Le immagini Dello schermo In caricamento E riduciamo Le loro risoluzioni Perché Perché ci abbiamo pensato Abbiamo pensato Al fatto Ma guarda Ma se metto Un'immagine Da 20 mega Lo carica lo stesso Bene Ma se ne metto Una di 2 mega L'avete lo stesso Sì E di 200k Sì E quanto riduco Guarda Lo riduco Di un solo millisecondo Se suppongo Che questo Lo apre una volta al giorno Stiamo parlando Di 500 ore Di tempo operativo Lobale ovviamente Cioè di 20 giorni Di risparmio Di tempo operativo Ok E se Diventano 50 anni Se riusciamo A risparmiare Un solo secondo Avendo fatto Semplicemente Non sto parlando Di design pattern E poi ne parleremo Qualcosa Non stiamo parlando Di ottimizzazioni Di flussi Stiamo parlando Semplicemente Di ridurre Le dimensioni Del buon Vecchio JPEG SVG Eccetera Di fare semplicemente Attenzione Già con questo Risparmiamo Ci abbiamo pensato Pensiamoci Allora L'ambito E il potenziale Di quello che si chiama Green coding È quello Di programmare Ma non solo programmare Distribuire Ed eseguire Del software In modo Ecologicamente Sostenibile Attenzione Non solo programmare Il problema è Tutta la catena Non è che io programmo E ho finito E me ne vado a casa Io faccio la mia app Faccio la mia web application E poi dopo cosa succede Dove viene manutenuta Quell'app Dove viene gestita È un'app Che ha bisogno Di un cloud Di un server Quanto impegno Di banda c'è Cioè Quanti byte Vengono trasmetti Al secondo Come viene impegnata La rete Anche quello È consumo Energetico Quindi Promuovere Un approccio Olistico L'abbiamo visto Ai problemi aziendali Evitare Figuramente Degli schemi automatici Ma anche scegliere E ci avviamo Pian piano Verso questo concetto Anche il linguaggio Di programmazione Con maggiore efficienza Energetica Ora io vi anticipo Una cosa Il linguaggio Di programmazione È un po' come Il fratello Io il fratello Ce l'ho avuto Basta Ce l'ho Punto Non è che l'ho potuto Scegliere mio fratello Del bene e del male È dato Quindi non sempre È possibile Scegliere Il linguaggio Di programmazione È un familiare Ce l'hai Te lo piangi O sei contento Di averlo Lo gestisci Al massimo Non è come Mi sono scelto La moglie La finanzata Quello poi è un altro capitolo Il linguaggio Di programmazione Spesso è dato Perché è dato Perché lavori In un'azienda In cui Lavori con quel linguaggio Non ne puoi scegliere Un altro Non puoi Ma a me non piace Java Ma qua lavoriamo in Java A me non piace Python Ma qua lavoriamo con Python Punto E allora cosa possiamo fare Possiamo scegliere Il linguaggio Probabilmente no Ma lo possiamo Ottimizzare No? Io mio fratello Lo bullizzavo Era più piccolo Ma lo ottimizzavo A mio uso e consumo Allo stesso modo Allora Quali sono le fasi Del green coding? Le fasi del green coding Sono Analizzare sicuramente I requisiti iniziali Quindi vedere Ma io Cosa sto facendo? Che programma sto facendo? Che applicazione sto gestendo? E selezionare La piattaforma E l'infrastruttura È opportuno andare su un cloud? Di che tipo? Poi La scelta del linguaggio di programmazione Che può avere sicuramente Un forte impatto Sulla efficienza energetica Come abbiamo detto Non sempre È possibile Avere questo lusso Però in alcuni casi Altre sono le decisioni Che possono avere Un impatto Maggiore Allora La domanda chiave Del green coding Qual è? La domanda chiave è Esiste un modo Per fornire Lo stesso beneficio desiderato Con il minor consumo energetico? Questa è la domanda Che dobbiamo farci Fin dall'inizio Esiste un modo? E trovare qual è? Allora Uno dei modi Può essere Quella dell'infrastruttura Serverless Che non significa Senza server Ok Ma significa Con un server Intelligente E questo può ottimizzare I consumi Dell'infrastruttura L'esperienza utente Come abbiamo detto prima Cioè ridurre Il tempo necessario Gli utenti Per completare Le operazioni Quindi Se io posso farti Un preloading Più veloce Ottimizzo i tempi Ma anche ottimizzare La usabilità E la performance Se io faccio Una UI Una user interface Quindi un'interfaccia utente Con una pessima UX User experience L'utente Che spesso Purtroppo è utonto Non sa dove pigiare E perde tempo E se perde tempo Sprega energia No? Ah ma quanto vuoi che sprechi Ricordiamoci Delle olive Allora ad esempio Vi faccio un esempio Pratico Il dark mode Cos'è il dark mode? Allora Grazie all'avvento degli OLED Quindi dei LED organici Non c'è più la retroilluminazione Per cui Dovevo sempre illuminare Ma esiste la possibilità Di spegnere dei pixel Nero E quando li accendo Ovviamente Sprego energia Ma quando metto il nero Utilizzo pochissima energia Da qui il fatto Che nel dark mode E questa È un The impact of dark mode On battery drain Quindi l'impatto Del dark mode Nell'uso della batteria Può essere anche importante Guardate qui Chrome Calendar Google News Eccetera A secondo di che cosa Di che tipo di applicazione Utilizzo Posso salvare Addirittura Fino al 24% Ok? Quindi cifre anche importanti E allora Quando io progetto La mia app Perché io non posso Darti di default Il dark mode? Oppure ti do come opzione Il dark mode Oppure faccio in modo Che di sera Ci sia il dark mode Spesso i cellulari Hanno questa opzione Ma io te la do In più Perché magari tu Non l'hai settato O non lo sai Allora Ci sono tre pilastri Nella scrittura Del software green Il Cosa viene generato Che è il codice stesso E quindi È una Logica più green Cioè Deve essere efficiente In termini E efficiente Mi chiedo In termini di beneficio Fornito O di energia investita Il secondo pillar Il secondo Diciamo Pilastro È il come viene generato E questo è importantissimo Perché spesso Non ci pensiamo Cioè Il ciclo di vita È efficiente Lo stesso codice Potrebbe generarlo Con meno energia Quindi qua parliamo Non solo di una logica Ma di una metodologia Più green E poi Dove lo esegue Il software? Cioè Qual è la piattaforma Dove viene eseguito Il software? Viene eseguito Soltanto Nel computer Nel pc Viene eseguito Soltanto Nel mio Dispositivo mobile O c'è un'interazione Tra il dispositivo mobile E un'infrastruttura cloud No? Quindi Consumo L'energia minima Necessaria Per eseguire Il codice generato Quindi una piattaforma Più green Quindi Questi tre pillars Sono importanti Cosa Come E dove Ricordiamoci Allora Così come A casa Dovremmo Spegnere le luci No? Quando Non Non c'è bisogno Io ricordo Un mio amico Che aveva un figlio E faceva il gioco Di spegnere le luci Dice Andiamo a fare questo gioco Andiamo a caccia delle luci Quando era piccolino Ovviamente Accesse E spegniamo quelle In cui Non è necessario Non c'è nessuno No? Allo stesso modo Spegnere le luci Quando non serve È Un modo Interessante Di Pensare Il green coding Come anche Evitare il consumo Impulsivo Ad esempio Spegnimento automatico E qui andiamo Verso un discorso Più di architettura Se vogliamo Esiste La possibilità Con i servizi Serverless Di cui parlavamo prima Lo fa AWS Lo fa Azure Lo fa Google Cloud Con le Google Function La possibilità Di spegnere Attenzione Non staccare la spina Spegnere Disattivare temporaneamente Una funzione Ok? Quindi io dico Guarda Che Sto andando in manutenzione Non mi serve Il gateway di pagamento Lo spegni? Ok? Oppure Quel gateway di pagamento Viene attivato Soltanto A un evento Quindi quando C'è il pagamento Da fare E allora Tutto questo Sicuramente Quindi fare in modo Che le funzioni Siano inattive Mi consente Di risparmiare Ovviamente Questo dipende Da quante Persone Quanti utilizzatori Ho Un altro esempio È quello Della landing page Di un'applicazione web Cosa sono Le landing page? Le landing page Sono delle Pagine Del sito web Che vengono Appunto Utilizzate Come atterraggio Quando io faccio Un link Faccio un post Su un social E voglio che Le persone Vadano su quella Specifica pagina Ora spesso Cosa accade? I siti web Spesso sono fatti Con Dei Dei programmi Ad esempio Posso utilizzare Wordpress Posso utilizzare Joomla Posso utilizzare Quello che voglio Ma spesso Come funzionano? C'è una base di dati Un database Dove vengono registrati Tutte le pagine web E poi c'è Uno script Che legge Da quella base di dati E al volo In real time Fa la pagina web Questo che significa? È uno spreco Quando è uno spreco? Quando la pagina La landing page È una landing page Che deve stare per un mese Per due mesi Allora qual è il trucco? Farla diventare statica Farla diventare una pagina Old HTML Ok? Perché l'HTML O che è charla È abbastanza semplice Da Ottimizzare Rispetto a una chiamata Che viene fatta Da un Database Ad un database Ok? E quindi posso Ricostruire la pagina Una volta E non Ogni volta Fa la differenza Una volta per ora Per giorno Per settimana O addirittura Per rilascio Attenzione Tutte queste cose Potrebbero sembrare Appannaggio Di chi È veramente Una persona Che ha una grandissima Attenzione Per l'ambiente E qua tutti lo siamo Ma la cosa bella È che è un win-win Perché per fortuna Perché per fortuna Avere un'attenzione All'ambiente Significa anche avere un'attenzione Al portafoglio Perché I cloud Si fanno pagare Per ora di utilizzo Sono pay-per-use Cioè Più lo utilizzi Più CPU utilizzi Più RAM utilizzi Più paghi Allora se tu sei Uno sviluppatore In azienda Ok? E riesci a fare Risparmiare all'azienda Tanti denari Fai anche carriera Quindi sono consigli Che hanno questo doppio effetto Importante capire Quante persone Utilizzeranno il software Ma anche Chi lo utilizzerà Perché attenzione Mentre prima i fruitori Del software Eravamo noi Essere umani Adesso i fruitori Del software Possono essere anche Delle altre macchine Che poi danno impasto A un'altra macchina E un'altra macchina Ancora eccetera E questo può cambiare Cosa può cambiare? Ad esempio Se non sono Se non è una roba Che devo fare in real time Io posso fare eseguire Queste funzioni Da notte Dove magari Ho un costo Dell'energia Minore E come chi fa La lavatrice La sera Costa meno Perché spendere di più? Anche con quale frequenza? Saltuariamente? Ogni giorno? Ogni minuto? Se abbiamo Gessiamo un'applicazione Per l'università Ok? Che fa L'orario Scolastico Dell'università Me lo deve dare Ogni minuto E cambia Ogni ora È differente Allora Prima di pensare al codice Possiamo pensare anche Come sono organizzate Le risorse Ad esempio Io potrei Utilizzare Anziché Excel Posso utilizzare CSV Anziché utilizzare XML Posso utilizzare IML Anziché Non anziché Posso anche utilizzare Delle immagini E capire Ma ci vogliono immagini Di cluster Quindi immagini Qua andiamo un po' più sul tecnico Quindi immagini Che sono Pixel per pixel Anche se sono Compresse Oppure sono immagini Vettoriali No? Allora Devo pensare a cosa sto utilizzando E anche le dimensioni Pensiamo anche ai video Perché io devo Fare uno streaming Di un video a 4K Se la risoluzione Del mio PC Non è 4K Ok? O comunque Ma li ci vedo pure male Non ci vedo così bene Non mi interessa Vedere quella risoluzione Perché sparare subito Di default in 4K? I video guardate che Così come oggi si è detto Che la generazione Con l'intelligenza artificiale Di immagini Consuma un sacco La generazione di video Anche quelli non Con l'intelligenza artificiale Occupa tantissima banda Quindi occupa tantissimo Soldi E anche Antidride carbonica Altra cosa che si può fare Sono i Progressive Web App Il PWA Cioè I browser moderni Possono trasformare Le pagine web Compatibili Con i standard PWA In applicazioni Quindi i PWA Sono come se fossero Delle app Ma non sono delle web app Quindi sono delle app Che possono Coesistere ed esistere Anche Offline E quindi questo significa Un risparmio abbastanza notevole Perché non sono costretto Magari ad andare Andare online Le CDN La CDN è una piattaforma Che fa da proxy Cioè che significa Se io devo Netflix ad esempio Tanti fanno così Devo fare lo streaming video Ok Non è che io me ne parto Dagli Stati Uniti Per vedermi un film Si sa che la tenza è quando arriva Ma ho delle CDN Quindi metto delle macchine Detto male Vicino a dove sto io Quindi vicino a dove Deve essere fruita L'informazione E questo mi consente Di ridurre la distanza fisica Ok E quindi di risparmiare Allora C'è una cosa Abbastanza controintuitiva Che si chiama Proporzionalità energetica Cioè L'energia consumata Da un sistema informatico Non è Non è Proporzionale Ai livelli di utilizzo Cioè All'aumentare Del livello di utilizzo Il consumo energetico Se vedete Nell'immagine a destra Per ogni punto Percentuale di potenza Di calcolo utilizzata Diminuisce E questo quindi È importante In tema di In tema di Efficienza E allora Il cloud A parte la battuta Che ho messo A destra Se la apprezzate Siccome la maggior parte Dei sistemi Eseguono Più applicazioni Contemporaneamente È difficile Identificare Su un monolite Diciamo così Che cosa asciupa Di più E cosa di meno E allora Con il cloud Le correlazioni Sono più chiare Perché più alta È la fattura Più energia È stata consumata Allora Io non lavoro Da Google Non lavoro da Azure Non vengo pagato Per dire il cloud È meglio Delle altre cose Attenzione Ma la direzione Per fortuna Purtroppo È quella Quindi L'idea di Sfruttare il cloud In maniera Intelligente Può essere Un altro Spunto Importante Una cosa Che a me È colpito molto Stamattina Per chi c'era Si è parlato Di come L'intelligenza artificiale Generi Sprechi Energia elettrica Ma E se provassimo E questo L'ha fatto Fino al Google Online Dal 2017 A utilizzare L'intelligenza artificiale In realtà Il machine learning Per ottimizzare Il consumo Di energia elettrica Questo è un Appunto Puro interessante Cioè Si può ridurre Fino al 40% L'energia Necessaria Al raffreddamento Perché una delle cose Quello che fa sprecare Molto È il raffreddamento Non ci sono dubbi Ora Il tasto di utilizzo Quello che dicevo prima Ecco Io che non sono Pro cloud Per forza Ma il tasto di utilizzo Ricordate quella curva Di cui parlavamo prima Dei grandi provider Come Amazon Google Cloud Microsoft Azure Si attesta Intorno al 65% Mentre I data center On premise Tradizionari Operano con un livello Di utilizzo Molto basso Molto basso Dal 12 E il 18% Allora La scelta del linguaggio Di programmazione Può influenzare L'impronta di CO2 Allora Secondo voi Vi lancio così I linguaggi di programmazione Che magari Qualcuno di voi conosce Qual è secondo voi Il linguaggio di programmazione Più energivoro Quello che Suva di più E quello Più bravo E meno energivoro Chi vuole Ma tu sei Sei bravo Ok no Però parliamo di linguaggi Che noi esseri umani Non Siamo un po' Volevo Volevo Che sono quasi boomer Però Il C Bravissimo Allora il C Ha una efficienza energetica Effettivamente Migliore Ma secondo voi Di quanto Python Dov'è? No Il vichingo Dov'è? Quanto Python È Più scasso Diciamo così Di C Due volte Tre volte Una volta e mezzo Allora Come diceva Lui Linguaggi che sono Più vicini all'hardware Più sei vicino all'hardware Più ovviamente Sei efficiente No? È abbastanza banale Ma è così E quindi In C Tu hai un controllo Della memoria Bestiale Che è anche il suo Enorme difetto Se vogliamo Esatto E infatti nasce Crust per questo motivo Comunque Riduco il tempo Di elaborazione Nei linguaggi compilati Come Cigo Crust Produco codice eseguibile Più efficiente I linguaggi interpretati Come diceva Il mio amico Vichingo Come Python O JavaScript Richiedono L'intervento Di un interprete Esattamente come L'interprete Il traduttore Il traduttore Ha tutto il tempo Che vuole Si prende il tè Sosseggia il tè Bello tranquillo E scrive Fa la traduzione Dall'italiano All'inglese L'interprete È un lavoro difficile Cioè La scuola di interprete C'è un attreste Difficile Perché tu In tempo reale In tempo reale Devi tradurre No? E quindi Ovviamente Diciamo Ci vuole Un carico Computazionale Un consumo Di energia Maggiore Ma quanto maggiore? Guardate qui Allora Stiamo parlando Se vediamo a sinistra C'è uno L'energia Del C Python è 75,88 Volte Più Energia Ma tu hai Te l'ho date Le slide Quindi No Lo sapeva lui Un applauso 75,88 Volte Cioè È tantissimo È tantissimo E La stessa cosa Avviene con Il tempo Anche se non c'è Sempre una proporzionalità Diretta Ok Ad esempio Non si capisce Per quale motivo Almeno io non l'ho capito Javascript E typescript Che sono Diciamo Cugini Typescript Fa veramente schifo Rispetto a java Stiamo parlando di No ma stiamo parlando di Tante e tante volte C'è anche PHP messo male Ok Quindi linguaggi Con un overhead Significativo Come python Ok Possono richiedere Più tempo Allora attenzione Che tanta roba Che viene fatta Con l'intelligenza artificiale Come viene scritta In python E abbiamo fatto la frittata Ma python È il mio fratello Cioè L'ho avuto In dotazione Non è che lo posso ammazzare No Non ne posso fare a meno Lo devo utilizzare E quindi ho bisogno Ma il mio tempo Ahimè è finito Di ottimizzare Di fare delle ottimizzazioni Ok Allora Come si misura Il consumo energetico Del sistema Il consumo energetico Si fa Raccogliendo i dati Relativo alla CPU O alla GPU O ad altre risorse Del sistema Ci sono dei metodi Quello di monitoraggio Hardware Quello diretto E quello più semplice Vado un po' veloce Perché altrimenti Non ce la facciamo Degli strumenti Powerstat Powertop In Linux Powermetrics In macOS Addirittura Windows C'è pure Windows Performance Monitor E l'Intel Power Gadget Che servono per Dare un'occhiata A quanto consumo Nel mio PC Ma esistono anche Delle API Ad esempio L'Intel Ripple Sulle CPU Intel O l'NVML Per NVIDIA Vi ricordo che NVIDIA Da scheda grafica E basta Si è trasformata In Come dicevamo Stamattina Anche in qualcos'altro Bene Quindi come si misura Si calcola Il consumo del software Vedo a riposo Quanto consumo Vedo Quanto consumo Con il software In esecuzione E faccio modalmente La differenza E ho una stima Cosa faccio Per vedere le emissioni Devo Moltiplicare Per un fattore Di Conversione Che dipende Dal mix Si chiama energetico Ok Quindi moltiplico Il consumo energetico Quanto kilowattoro Ho consumato Per questo numeretto Questo numeretto Dipende dal paese In cui sono Il paese Che va a carbone Cosiddetto Che utilizza maggiormente Carbone Ha un coefficiente Di circa 0,9 Kilogrammi Di CO2 Equivalenti Su kilowattore Cioè ogni kilowattore Mi produce Quasi un chilo Di CO2 Guardate che tanto Mentre in paese Che utilizzano Energia rinnovabile Siamo invece Addirittura A 0,05 Negli Stati Uniti Siamo a mezzo chilo In Europa Siamo a un quarto Di chilo Mentre la Francia C'ha poco Però ha anche L'energia nucleare C'è da dire La Germania Dipende ancora Fortemente dal carbone Ha un Un fattore Di 0,45 Abbastanza alto Come tra l'altro Anche gli Stati Uniti Ok Non ho dati Sulla Cina Strano La misura In ambienti cloud Come si fa? Con Cloud carbon footprint O i green algorithms O altre cose Questo ad esempio È molto carino Che è Green algorithms Questo calcolatore Molto grazioso Perché io gli metto Quanto è il runtime Quanti core C'ha la mia CPU O GPU Il modello Della mia Della mia CPU E lui mi dà Quanta memoria E lui mi fa Ovviamente una stima Molto di massima Di la mia footprint Quindi quanti grammi Di CO2 Equivalente Ho consumato Quanti kilowattore Che cosa Avrei fatto il 2% Di un viaggio Parigi In Londra Perché poi Queste cose Sono abbastanza Carine da Da vedere Bene Io ho finito In realtà Il tempo A mia disposizione Continuo Continuo Ok Un'altra cosa Che si può fare È misurare L'impatto energetico Di query SQL Attenzione Attenzione Ed attenzione Perché noi pensiamo sempre Che il problema È il linguaggio Il C Il C sharp Ma i database Sono energivori Potenti Mostruosamente energivori Cioè le basi di dati SQL No SQL Data lake Eccetera Consumano E consumano tanto E allora ci chiediamo Di capire In termini di risorse Il mio database Quanto consuma Ho fatto un tuning Del database Cioè che significa Ho messo degli indici Dove andavano messi Ho fatto Delle partizioni Cioè c'è tanto Che può fare Un database administrator Ed è una figura Guardate anche Per i ragazzi giovani Che ci sono Molto richiesta Molto ben pagata Ce ne sono pochi Anche sui dispositivi mobili È possibile Con Android profiler O Xcode instruments Monitorare Il consumo energetico Delle app Allora Oltre che misurare Possiamo anche Ottimizzare Come vi dicevo prima Cosa possiamo Ottimizzare Il runtime Possiamo Sfruttare Se abbiamo Ovviamente Linguaggi come Go O Golang Perché c'è il sito Che chiama Golang O Erlang Possiamo sfruttare Il parallelismo Attenzione A Le librerie E ai framework Ok Perché i framework Sono delle cose Bellissime Ma vanno Utilizzate Con le pinze Con molta attenzione Ok Perché Il framework È framework Che fa tutto Come decide lui Funziona Egregiamente Ma È efficace Ma non è efficiente Attenzione Che è molto importante Questa differenza Ottimizzare Gli algoritmi No Non tutti Lavorano con gli algoritmi Direttamente Ma c'è una cosa Che si chiama Oce L'ordine di grandezza E quindi capire Questo quanto è Ridurre il carico Computazionale Eliminando i calcoli Ridondanti O la cosiddetta Lazy evaluation C'è la valutazione pigra Quando mi serve questo dato Adesso O più tardi Cosa ottimizzare ancora La memoria La programmazione Asynchrone E parallela Quindi posso fare Dei thread No Posso minimizzare L'operazione Input output Posso fare Caching Rilasciare le risorse Non necessarie Tante cose Anche utilizzare La programmazione Dichiarativa O funzionale C'è quella orientata Agli aspetti Va bene Io La regia Mi fanno cendo Diciamo Di spegnermi Anche io Diciamo Come una funzione lambda E quindi Vado spegnere Ringraziamo l'ingegnere Vacanti È stato gentilissimo Complimenti Oggi Abbiamo intrapreso Un viaggio Nel rapporto Tra Energia Open source Che ha Toccato Diverse tappe Tante tappe Abbiamo visto Come l'intelligenza Artificiale Fa il suo Viaggio Abbiamo visto Come i data center Influiscono Come la localizzazione Di un data center Possa più o meno Influenzare Quello che è L'impatto energetico Il carbon Impact Eccetera Eccetera Eccetera